E adesso vi presento, ma non avrete le mani di Borghizio, a tutti, voglio fare un altro applauso per chi ha visto il voto del centro, ma da un mandatore del centro, che si pensava di avere qualche probabilità, per cui completi, e adesso lo lasciamo a parlare, grazie, a tutti, anche al centro, anche a Roma, anche in base d'Italia, e questo è una grande situazione per voi, perché è una diproposizione a prova po' alta di quello che abbiamo, ci siamo scolati a piegare per tanti anni, che la lega non ce l'aveva, ne con i romani, nero e meridionali, e tra parenti, i romani magari non tanti, ma meridionali che vivono nel nostro territorio, che non sono maggiore, che hanno lavorato a Franco Borghizio, e magari ci sono vivi le nostre famiglie, ne ho anche io, nella mia famiglia, che conosciamo, e loro ci conoscono oggi, molti sono tesserati, qualcuno è dirigente della lega, e quindi questo problema non è mai esistito, l'hanno sollevato i figli di tuttana, che da Roma succhiano il sangue al nostro popolo, e che hanno cercato di buttalare questo movimento, perché hanno capito che questo movimento si romoccavano con le calunnie, quante ci erano dette, a Chiamolo Lucio, lo siamo anche a quello connesso noi, sicuramente, ma non abbiamo mai dedicato le calunnie, le regognone, le accuse di arzismo, di xenografia, di odiare gli altri popoli, ma come si può pensare che un movimento economista, che usa la sua libertà, possa odiare gli altri popoli? Proprio la nostra filosofia politica si basa sul principio di autodeterminazione dei popoli, perché il principio va bene per il Kosovo, va bene per la Crimea, va bene per l'Ucraina, ma come non era bene, quando abbiamo cominciato a parlare, pensate un po', di indipendenza della Palazzo, vengono giù il nome, oggi passa, e devo dire, l'abilità politica del nostro gruppo regionale, perché hanno fatto il proprio lavoro, questo non lo va, passato sotto silenzio, in un paese che è conservatore, uno dei suoi istituzioni, un paese che legge il Presidente della Repubblica, uno degli esponenti della Decca della Repubblica, che stanno con la medaglia di tre cani fa, già che il parco, devo dire, io sono di quelli, quelli bianchi della politica, lo presentano con un nuovo tabaccio, con una nuova risorsa, perché non hanno trovato altri accordi per gli equilibri interni nei partiti, cioè l'elezione del Presidente della Repubblica, nell'anno di Grazie, 2015, ma niente esattamente secondo le regole del normale Cercene, non avevano ancora dato un posto alla sinistra democraziana e ne erano contatto con l'elezione del Presidente della Repubblica. Questo spiega molto bene il gesto simbolico di Salvini e a differenza degli altri, sono andato a passare la patopola del Presidente della Repubblica. Ha detto, quando parlerà dei geni, ci caperà per parlare, magari dell'immigrazione, magari del lavoro, magari delle pensioni, ogni riferimento alla progazione della legge non vero è veramente molto. Ma ora ci vado per parlare di cose che interessano al Dio Popolo. Io apprezzo ogni giorno che passa, questo coraggio pulito, che parlavo prima a Tavolo, Romero e Romero, questo coraggio pulito. Perché forse non tutti all'inizio pensavamo che sto ragazzo, io lo provozzo da ragazzino con un tanto rega, come è, un ragazzino europeo, noi eravamo già tutti, noi ci siamo voluti, loro sono colato, giovani di Mike. E per me è un'enorme soddisfazione vedere questa nuova richiesta giovane della lega. Sono cresciuti bene nella lega. Il capolavoro politico della Lega, Consiglio, primo, nell'avere fatto capire ai nostri popoli di essere una comunità, di avere degli interessi comuni, che le divisioni destra e sinistra, impiegati, operari, imprenditori, artigiani, commercianti e coltori, erano false di fronte alla necessità di far progredire il nostro popolo, che siamo come le dita di una mano, e quando in questa crisi economica pazzesca, in cui questi lagri di regime hanno portato il nostro popolo, che ha solo sempre lavorato e sudato, e aveva fatto la guerra, fatto diventare questo paese una potenza interiore, dare le linee della guerra, unico caso, e l'hanno portato alla difficoltà, alla cassa internazionale per tutti, salvo ministeriali no, per loro evidentemente, nel vocabolario del ministeriale, alla voce cassa internazionale, oggi è riservata ai coglioni di lavoro, al no, no, questa è la realtà, oggi è incredibile, posso sembrare, le parole della lega attenziscono anche a Roma e nel profondo sud, io ho fatto l'esperienza, non me la sto qui a ricordare, perché andiamo avanti fino a tanta notte, l'esperienza di una campagna elettorale a Roma, non la farei più una a seconda notte, anche perché ritengo di aver avuto diritto di chiedere i voti nel mio territorio, perciò che sono spadaro, ho sempre lavorato per il mio territorio, gli hanno mandato a fare uno strumento di subestimento, il riferimento soprattutto per una buona dose di buona sorte e riuscita, ma certamente questo esperimento è un'altra città che il segretario sta creando non come lega voi, perché attenzione, la lega non lo definisce, la padagna, la nostra principia, l'articolo 1 dello statuto, non solo sta di cancellare, noi siamo e restiamo in esistirsi sempre, poi è il nostro segretario con la sua capacità politica personale, su 5 punti, 8 chiari, indivisibili da tutti noi, riesce a raccogliere un sostegno personale e politico in altre parti della paese, questo non può che giocare la nostra patata, perché quando la casa brucia, l'Italia è un paese che sembra la casa che brucia, che viene a pagare, quando persino nei nostri territori, dove lavora una religione e si comincia a vedere la gente sfiduciata, che non spera nemmeno più di trovare un lavoro, quando nel nostro territorio, cosa che non c'era mai stata, sono le case temporaniche, vedi i mercati della gente arziana, nostra, non vede la comunità, poveri nostri, cadere, ci non riescono, poveri nostri, poveri nostri, costretti ad arrivare a vedere cosa c'è alla fine del mercato, perché con quelle pressioni che gli dà questo Stato, l'altro, non c'è arriva alla fine del mese, se ne fa fare il sito, o magari mi deve aiutare con un figlio e con un po' che non ha una volta, quando la nostra gente deve andarsi a umiliare, se ha bisogno di una casa popolare per i figli che si scopri, o un posto nelle loro operazioni, non ha avuto sofficienza, si sente dire, bene che la tua coglia prevedono, prima di tigre, prima di entrare con un esercito di figli, e allora, allora, si comincia a scorrire il sangue, e quando un popolo pacifico, un popolo del locale, un popolo prevedente, legalitario, come il nostro, vede queste cose, beh, si comincia a pensare in un'altra maniera, a pensare che forse il ruolo di un movimento politico, come la Lega, è quello di smegliare l'aceto, stiamo riuscendo a segnare il presidio in Torino, è tutto dirvi, sono Torino, è quello di essere un movimento rivoluzionario, un movimento che ti dà giro, che gli manda tutti a lavorare, che vede dentro a chiere, che lo lascia imparcare il più verso uno di questa carta del mondo, e qualcuno ci ha scoperto, che lo diminirla con le clandandini di Italy, che lo diminirla con i tuini metti, con le lucerie, con i voti coprati, quanta, quanto voto comprato, visto, nella campagna elettorale a Roma, ce lo so livelli per mi dicevano che non si dà a fare, fanno tutti le associazioni, gli ungoli, hanno il contenuto e quindi hanno il voto, è l'unico che viene più uguale come parte, non si fa più una campagna elettorale, comprono i voti tutti, dentro, centro, sinistra, la merda della politica vivete al piano, non sopravv falar, camionti alla countia, Roma, Vishal and Camilando, bastone Vot нев Fauzi, e r我要lova, pieni romani impulsi, gipfespen*** che sì poveriod Lisa e succio e venutò cal appear, arriva la leggera e gli fa un kurlo x 3 ciop sedan pigitalsi, arriva la leggera, mi fa un kurlo fugi Grazie.